Com'è così, entro fine secolo, più del 90% dei ghiacciai sarà scomparso. Ci sono posti dove l'acqua scarseggia e altri dove ce n'è troppa. Siamo il paese europeo con la più alta esposizione economica a rischio alluvionale. Ma il tempo è crisi climatica! Power to the people, because the people get the power, tell me can you feel it that it's stronger by the hour. Power to the people! Power to the people! Power to the people! VIVO! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.